Benvenuti, siamo qui oggi, ospiti del Caffè Letterario di Roma, per inaugurare una serie di appuntamenti che i Mondi Diversi, attraverso il suo sito, desidera promuovere per contribuire al dibattito sui temi dei diritti e della valorizzazione delle differenze. Qui a parlare con me oggi e con Gaetano Di Sabato, cofondatore insieme a me di Mondi Diversi, abbiamo Aurelio Mancuso, Presidente di Equality Italia e uno tra i maggiori protagonisti dell'associazionismo italiano e delle iniziative che da decenni vengono intrapresi in nome dei diritti e delle libertà civili del nostro Paese. Quindi noi ti ringraziamo Aurelio e grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Allora Aurelio, io avevo intenzione di iniziare con un altro argomento, però dal momento che tu sei stato l'apripista della reazione sulla rete, sui mezzi di informazione, delle reazioni alle dichiarazioni di Guido Barilla, volevo chiederti come è andata la cosa e soprattutto questa idea di famiglia tradizionale, ma poi in fondo la famiglia che esce fuori dalla comunicazione della Barilla, ma anche di altre aziende, è poi così rispondente alla realtà di questo Paese? Beh, intanto il boicottaggio di Barilla è andato molto bene, nel senso che è per la prima volta, credo che la comunità gay, ma non solo, ho visto tantissimi etero aderire alla campagna su Twitter, la prima volta dicevo che c'è stata una risposta così di massa e questo è determinato, secondo me, dal fatto che lui ha cercato di strumentalizzare, di portare nel suo discorso pubblico la sua idea per cui la famiglia è solo tradizionale, aggiungendogli il fatto che i gay non sono quella cosa lì e se non sono d'accordo possono anche cambiare acquisti, diciamo, non comprare il proprio suo prodotto. Beh, questo ha scatenato una grande reazione perché intanto nessuno gli ha chiesto di fare uno spot con le famiglie gay e dall'altra quando uno diventa arrogante, all'arroganza si risponde in modo molto duro, insomma. E' andata molto bene e la sua visione di famiglia tradizionale, a parte il fatto che lui è un divorziato e risposato, voglio capire di che famiglia tradizionale parla, la sua reazione sulla famiglia tradizionale è una visione degli anni 40-50 dove c'era la donna, l'uomo che era il padrone della famiglia e i figli conseguenti. Quella famiglia lì non esiste più comunque, nel senso che grazie al divorzio, al diritto di famiglia, a tutta una serie di leggi che sono venute a cadere rispetto a queste due prime leggi, le donne non sono più in minorità formale dentro la famiglia, non esiste più la famiglia patriarcale e sostenuto dallo Stato. Quindi diciamo, lui sogna i bei tempi andati, ma quei bei tempi andati per fortuna non ci sono più. E' un errore, secondo me, che lui riproponga questo anche nelle sue pubblicità, perché col tempo credo che ne avrà un danno. Dopodiché non è che io sia contro la famiglia tradizionale, anzi, io sono nato da una famiglia tradizionale. Tutti noi, come tutti, quasi tutti. Io faccio parte di una famiglia che noi eravamo sei fratelli, quindi voglio dire, non è che famiglia meridionale tradizionale, ma anche in quella mia famiglia tradizionale i ruoli e i compiti nel tempo sono mutati. Da quando io ero piccolo, da oggi, insomma, quella famiglia è cambiata moltissimo. Si vede che Guido Barile è rimasto appunto a certi tempi, però per gli altri, non per lui. Lui si è adeguato ai tempi e tutti gli altri non devono. Tra l'altro una campagna ha avuto riscontro anche in altri paesi fuori dall'Italia. Abbiamo letto in America, in Canada e anche in Polonia. Sì, io sono inseguito da giorni, da giornalisti di tutte le nazionalità, diciamo dall'India all'Australia, quindi passando per l'America Latina e via dicendo. Certo, perché la Barilla è il leader mondiale della pasta e ha un mercato internazionale grandissimo e lui credo che con le sue stupide scuse si sia preoccupato più che altro di quei mercati lì. E però gli è andata male, perché per fortuna è scattata una solidarietà internazionale che lui, penso, non si aspettasse. E non solo nel campo dell'omosessuale? No. No, assolutamente sì, perché nei paesi civili, nelle cosiddette democrazie liberali, non si trovano pubblicità o imprenditori che si scagliano contro gli omosessuali, perché in altre realtà il segmento commerciale omosessuale è anzi, come dire, coccolato. E anche le grandi marche, quelle generaliste, diciamo, non si permettono di certo di fare operazioni anticommerciali. Anzi, altre aziende hanno portato questo esempio nelle pubblicità italiane. Assolutamente sì, dico di più, ci sono marchi italiani che in Italia ignorano il cosiddetto target omosessuale, ma in altri paesi sono ben presenti. Faccio un esempio per tutti, quando uscì la nuova Fiat, la nuova 500, la Fiat rappresentò al Pride di Madrid. Esatto. E dunque, per tornare a noi e lasciare un attimo da parte la barilla e il suo marketing, volevo ricordare che tra pochi giorni, agli inizi di ottobre, ricorre il terzo anniversario, mi sembra, della fondazione di Quality Italia, l'associazione di cui tu sei presidente. Leggo nella sua mission che si definisce una rete trasversale di persone che operano per i diritti civili e che si adopera perché il rispetto e il riconoscimento delle differenze siano alla base della comune convivenza. Per quanto ti riguarda, si tratta in ordine di tempo dell'ultima tappa di un percorso molto lungo, nel quale tu ti sei adoperato in vari campi del sociale, dei diritti civili, non solo degli omosessuali, ma anche dei disabili, tossicodipendenti, migranti. Quindi, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio privilegiato, a che punto siamo in Italia con i diritti? È vero che è un cammino fermo o che addirittura procede all'indietro? Sì, allora, diciamo, la mission di Quality Italia è semplice. Cerca di coniugare tutte le aspirazioni dell'identità rispetto ai diritti civili, appunto, dalle donne alle omosessuali ai migranti, disabili, giovani e altre realtà, le sei grandi aree di discriminazione previste dal Trattato di Lisbona, cercando di costruire dei luoghi, delle iniziative, anche dei rapporti politici che intrecciano questi diritti per costruire insieme una piattaforma comune, perché ci sono le associazioni di città di categoria che fanno già un ottimo lavoro, noi non vogliamo sostituirci e non possiamo sostituirci a loro. Noi cerchiamo di fare un lavoro più culturale e di visione, cioè noi crediamo che questo paese, proprio perché è molto arretrato, sia necessario, certo, un discorso identitario per ognuna di queste questioni, ma assolutamente all'interno di una visione complessiva per cui diritti civili e diritti sociali stiano insieme per far avanzare questo paese. E da questo punto di vista culturalmente, soprattutto la cultura politica è molto indietro. Proprio per cambiare questo stato di cose, che cosa si può fare in concreto e come agisce equality sotto questo punto di vista? Beh, si può fare, intanto bisognerebbe avere un po' la volontà, questo lo dico un po' come autocritica anche rispetto all'associazionismo, bisognerebbe avere un po' la volontà di non stare sempre chiusi nei propri fortini, di avere la capacità di avere una interrelazione più costante. Io ricordo sempre il fatto che i gay e le lesbiche hanno ottenuto i loro diritti negli altri paesi del mondo, stringendo alleanze molto forti, soprattutto col movimento delle donne e poi dei giovani, insomma di questi movimenti classici uguali per impostazioni a quello omosessuale. In Italia questo non accade e questo impedisce una reale pressione nei confronti della politica, perché il tema è perché la politica in Italia sia così arretrata. È vero, è la politica che è arretrata, ma è anche vero che la strategia che abbiamo messo in campo in tutti questi decenni sia portato ai grandi risultati dal punto di vista sociale, dalla visibilità, eccetera, non ha ottenuto reali, concreti risultati nel campo delle leggi. Parlando proprio di questo, lo scorso 19 settembre la Camera dei Diputati ha approvato la legge contro l'omofobia inserendo il supplementamento Gitti, che in realtà ha scatenato la protesta unanime, in questo caso, di tutta la comunità LGBT. Qual è la tua valutazione di questa norma così come è stata inviata al Senato? Ecco sì, anche questa vicenda dopo tanti anni un po' di divisioni ha, come dire, compattato tutto il movimento. Allora la situazione è questa, il testo licenziato dalla Camera ha un aspetto molto positivo, che è quello di avere esteso anche per gay e trans le aggravanti di pena rispetto all'incitamento d'odio, le violenze, eccetera. Mentre ha un aspetto negativo che è questo appunto di aver introdotto un emendamento che dice che intanto si riferisce alla libertà di espressione già garantita dall'articolo 21 della Costituzione, ma inoltre con questo sub-emendamento Gitti specifica quali organizzazioni hanno libertà di opinione al loro interno rispetto hanno atteggiamenti anche di tipo discriminatorio. Allora la mia valutazione è questa, adesso si sta valutando dal punto di vista giuridico l'impatto di questo sub-emendamento, adesso stiamo andando dal Senato quindi capiremo, ma il termine qui è tutto politico, si è voluto indebolire una legge che si occupa di discriminazioni, introducendo certo gli aggravanti di pena anche per omofobia e transfobia, ma indebolendo quella parte proprio che è quella di prevenzione dei fatti di sangue, cioè quella parte che riguarda, che insiste sul fatto che tu non puoi pensare che poi il tuo incitamento alla discriminazione, le tue valutazioni sulle categorie e le fatti specie previste da Mancino siano un fatto legato alla libertà di espressione, non sono delle discriminazioni vere e proprie. Allora su questo c'è un grado di dibattito, ma ripeto il tema è politico, il PD in tutta questa vicenda, a differenza di quando si affrontano altre leggi, non ha avuto nessun tipo di rapporto con l'associazionismo, non c'è mai stata una riunione, una richiesta di chiarimento e questo è incredibile perché se quelli che sono destinatari del tuo provvedimento non sono tutti d'accordo, forse devi riporre delle domande. Questo atteggiamento, questa arroganza politica è il primo nodo. Il secondo è, si dice adesso che l'emendamento è una banalità, beh se era una banalità perché si è introdotto e poi questa specifica sulle libertà di espressione, come mai si è voluta introdurre adesso che si estengono le aggravanti per gay e trans? La legge Mancino c'è dal 1993, quindi in vent'anni non è accaduto nulla rispetto, nessuno è stato denunciato per le proprie opinioni eccetera. La verità è che i giudici applicano la legge con gran buonsenso, attenendosi molto strettamente all'articolo 21 per cui pochissime persone sono state denunciate per la Mancino sulla questione delle espressioni pubbliche, si è voluto dare un segnale politico a noi e al Paese. Va bene, mettiamo anche gli omosessuali transi questa legge qui, però le organizzazioni cattoliche, le organizzazioni di certo tipo siano tranquille, non saranno perseguitate. Ed è un messaggio tremendo perché va contro tutti i principi europei che abbiamo sottoscritto in questi anni. Ma da un punto di vista politico esiste anche un altro quesito, fondamentalmente il Partito Democratico avrebbe potuto licenziare sostanzialmente il suo testo originale con l'appoggio di Selle e di Movimento 5 Stelle, invece ha preferito il compromesso accordandosi con scelta civica. In questo contesto, nel contesto di oggi, che significa? Qual è? Sì, qui ci sono due questioni. La prima è, si è detto all'inizio, ma no, intanto si è presentata una legge con 220 firme di parlamentari di tutti gli schieramenti. Poi si è abbandonata, quindi Movimento 5 Stelle, SEL, PD, scelta civica. E no, PDL non c'era nessuno. Poi si è arrivato in commissione, si è detto no, vabbè, dobbiamo abbandonare questa cosa perché forse il PDL ci sta a fare una cosa insieme. E allora qui è scattata, dobbiamo fare una cosa insieme alla maggioranza delle larghe intese. Si è licenziato un testino, un testo piccolino che interviene soltanto sul lamancino e basta. Si è arrivati in aula senza le aggravanti, perché si è detto ah beh, tanto poi le aggiungiamo in aula perché se no qui ci sono 400 emendamenti, non ce li facciamo, eccetera. Poi successivamente ancora arriva il subemendamento GT. Ma tra il testo piccolino e il subemendamento GT e l'emendamento del PD, eccetera, c'è stato l'abbandono del PDL al sostegno a questa legge che era in verità un articolo solo. Allora, se era una cosa della larghe intese, non è riuscita. Quindi a quel punto, come è successo per tutte le leggi civili di questo paese, ma come succede in gran parte del mondo, ci poteva essere una maggioranza trasversale. Quando si è approvato l'aborto e il divorzio, gli alleati della DC che erano i partiti laici allora, PLI, PRI, tutti questi partiti qui, ce ne sono fregati assolutamente dalla maggioranza. Hanno votato insieme al PC e sono passati divorzio, aborto e gli alleati. Così dovrebbe essere anche in questo caso, visto che non c'è una maggioranza solida al Senato e invece c'è alla Camera. Quindi bisognava far uscire una bella legge dalla Camera e poi capire come si ragionava il Senato. Ma il Senato è la stessa identifica cosa, perché se il PDL non la vota, non passa. Quindi o c'è un accordo con SEL, Movimento 5 Stelle e quelli di scelta civica che ci stanno, ma quella legge non ha nessuna possibilità. Quindi diciamo si è fatto un gran pasticcio, di cui adesso se ne pagano un po' le conseguenze. Dopodiché io ritengo che l'avere introdotto da Gravanti finalmente è il minimo sindacale. Però in una situazione così depotenziata anche dal punto di vista politico, perché guardate il clima in cui avviene l'approvazione di una legge è importante e influisce anche nella giurisprudenza. Non è vero che una legge va bene in qualsiasi modo, in qualsiasi contesto come venga approvata. No, il clima è molto importante e questo è un clima di grande confusione. Ma a proposito di confusione, tu e di storia, tu hai attraversato un po' tutta la trasformazione della sinistra italiana, perché hai conosciuto la realtà del PC, poi del PDS, poi dei DS da cui sei uscito in polemica, proprio per il modo in cui venivano trattati certi temi, finché poi hai deciso di riaderire al PD. Ora, dopo, in questo periodo di un po' perdita di identità politica da parte del centro-sinistra, il tuo rapporto con il partito com'è? Ma il mio rapporto con il partito è così, con la base è splendido, mi chiamano, mi chiedono di andare a tantissime iniziative, eccetera. Con i vertici naturalmente in questo momento è assai conflittuale, ma bisogna capire anche quali vertici, perché in questa situazione di grande confusione stiamo andando verso il congresso, eccetera, bisognerà un po' capire, speriamo di capirlo, al di là degli slogan, nei documenti congressuali, quali sono le proposte dei singoli candidati. E guardate, non è sufficiente scrivere io sono per il matrimonio gay piuttosto che per le unioni civili, sono contro l'omofobia, eccetera. È molto importante il contesto in cui vengono messe queste proposte. Come detto prima, la lista della spesa, la lista degli spiegati è una cosa che non si può più sentire nel mondo, o i diritti civili sono un elemento di sviluppo anche economico, strategico, quindi costituiscono il pilastro di un programma di forza della sinistra, del centro-sinistra mondiale, come dice Obama, come dicono i grandi diritti nella sinistra del mondo. O se no ci ritroviamo appunto col partito confessionale, cioè col partito pietistico, per cui, ah beh sì, a un certo punto ci sono le donne, i disabili, ci sono gli omosessuali, e quindi questi poverini qualcosa deve andare di qua, di là. No, questo non è più così, cioè non c'è più una società dove ci sono queste aree che sono immarginate, quindi hanno bisogno di sostegno. Queste aree agiscono ormai nel mondo, nella società italiana, a prescindere dalle leggi e costituiscono la varietà e la mescolanza che esiste in tutte le società mature. E queste realtà non chiedono favori, non chiedono privilegi o leggi speciali, no, chiedono di essere attori uguali agli altri nell'agora politica. Quindi io sono omosessuale, ma non è che io ho bisogno di dire tutti i giorni che sono omosessuale, io non sono un omosessuale di professione, io ho, come tu hai citato prima, ho una professionalità politica che è assai vasta e mi sono pure scocciato di andare a fare l'Italia per questi dibattiti. No, io vorrei che la mia identità insieme alle altre agiscano nella discussione. Naturalmente io ci tengo molto la mia identità perché è anche politica e quindi naturalmente contribuisco anche per questo, però voglio poter parlare anche dei semafori che non funzionano. Tornando, Aurelio, al tema dei diritti degli omosessuali, al centro del dibattito c'è anche l'accesso al matrimonio, alla tutela e alle garantite, alle cosiddette famiglie tradizionali. Molti sostengono che esistono insormontabili ostacoli sia di ordine costituzionale che giuridico. È vero si tratta di un pretesto che nasconde pregiudizi di ordine morale e religioso? Allora, non esiste nessuna norma costituzionale che dica che il matrimonio è inibito alle persone del stesso sesso. La Corte Costituzionale è stata molto chiara rispetto a questo, ha detto non è una discriminazione in sé il fatto che voi non accediate al matrimonio, a voi vanno garantiti però gli stessi diritti e i doveri di tutte le coppie eterosessuali. È il Parlamento che deve decidere qual è la forma da darvi, cioè qual è la forma di istituto eccetera. Questo cosa significa? Significa intanto che naturalmente giuristi come Rodotà e tanti altri hanno specificato e spiegato che appunto la Corte Costituzionale preme perché ci sia intanto un riconoscimento giuridico e che non è assolutamente vero appunto questa cosa che viene bandierata sulla questione del matrimonio, tant'è che le regole del matrimonio non sono regole scritte nella Costituzione ma fanno parte del marito civile. Non c'è una specifica matrimonio uomo-donna nella Costituzione. È vero che i padri costituenti probabilmente manco pensavano, diciamo, no? C'è qualcuno che ha proposto di fare la specifica, la Lega qualche anno fa lo ha proposto di fare un emendamento alla Costituzione e hanno anche ripresentato quella proposta di legge costituzionale. Ma nella sostanza anche tutti i giuristi più, anche più lontani da noi dicono quella cosa lì è scritta così, punto. Poi lo Stato ne ha fatto discernere, discernere, diciamo, poi ricadere tutta una serie di leggi civili, eccetera, che stabiliscono i rapporti, eccetera. Ma sono leggi che sono cambiate nel tempo. Prima c'era la patria potestà, ora c'è la potestà genitoriale, cosa molto differente. I tempi cambiano e quindi naturalmente anche le leggi devono cambiare. E a proposito di tempi che cambiano e di Parlamento, che dovrebbe essere la sede in cui cambiare le cose, mi ha colpito che durante il dibattito in aula sulla legge contro l'omofobia Rocco Buttiglione abbia invece affermato che il matrimonio è un diritto precluso agli omosessuali perché sarebbe costituzionalmente destinato alla procreazione. Ora vogliamo sfatare questa argomentazione una volta per tutti dicendo che comunque il matrimonio in Italia non è vincolato al requisito di volere o di potere avere figli. Anche persone eterosessuali non fersi li possono sposare. No, tra l'altro diciamo Buttiglione confonde il diritto canonico con le leggi dello Stato, perché nel diritto canonico è vero che una delle questioni che possono attenere all'annullamento della Sacra Rota è di non aver avuto figli. Soprattutto se il maschio o la femmina non l'hanno detto al partner. Molte volte lo fanno passare come così e quindi diciamo si sciogliono. Sappiamo che nella Sacra Rota passano molti scioglimenti che non possono avvenire così velocemente nel diritto statale. Tra l'altro quella è una delle cose su cui bisognerebbe mettere mano perché c'è un sacco di gente, soprattutto uomini che passano attraverso la Sacra Rota per avere meno vincoli rispetto ai benefici, al sostegno che devono al partner debole. Quindi diciamo c'è una questione lì da rivedere. Ma Buttiglione è attaccato a tutte queste vicende, tanto perché bisogna riconoscere che noi gli abbiamo fatto il torto peggiore alla sua vita. Noi abbiamo costruito il dossier che ha impedito che lui diventasse commissario europeo. Allora io ero segretario nazionale dell'Arcighei e insieme a un pool abbiamo costruito proprio un dossier che abbiamo mandato a tutti i parlamentari europei, ma soprattutto abbiamo lavorato con il gruppo del Partito Socialista europeo e quello liberale e dei verdi, informandoli proprio su tutte le vicende, tutte le dichiarazioni e questi arrivarono alla commissione che vaglia le candidature dei commissari con un fuoco di fila di domande, per cui lui non fu accettato come... è stata la prima volta nella storia dell'Europa e quindi diciamo un po' quegli omosessuali ce li ha in Italia. Dopodiché lui dice delle cose che io ritengo interessanti dal punto di vista ecclesiale, ma dal punto di vista statale non hanno più senso. Cioè le leggi si possono cambiare, la Costituzione si può mutare all'inizio se si vuole, non c'è niente di fisso, capisco che le sacre scritture notte e stampate sono quelle, ma diciamo la Costituzione e le direzioni italiane non è così, ma soprattutto l'obiezione che io faccio è questo, ma se noi dovessimo seguire la logica di Buttiglione, di Rabinetti, di queste gente qui, ma in questo paese saremmo altro che agli anni 50, saremmo addirittura, non dico al fascismo, ma al prefascismo, diciamo a una visione di uno Stato dove le libertà individuali sono assolutamente un sistema che non può esistere, perché esiste solo una visione che è quella conservatrice o clericale che ha come visione il fatto che le persone devono attenersi a certe norme che sono legate alla tradizione, ma quello che è avvenuto in Italia e in tutto il mondo libero è proprio l'esatto contrario, quindi queste persone un po' si devono mettere l'anima in pace, queste posizioni negli altri paesi europei e occidentali sono sostenute dai tiparti, dalla Le Pen, cioè dalle destre estreme, non dai conservatori che sono più attenti. Ma in effetti negli altri paesi europei un altro ostacolo che è caduto in molti paesi europei e non solo europei è quello proprio all'adozione e anche alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alle gestazioni surrogato e in Italia invece neanche singole eterosessuali possono adottare, quindi siamo molto indietro da questo punto di vista, come lo si imposta un discorso serio, un dibattito che possa davvero produrre dei risultati in questo senso? Intanto si dovrebbe impostare partendo dai diritti dei bambini, quando si dice ah ma nessuno nessuno ha diritto ad adottare i bambini a prescindere di quello che è, va bene, sono d'accordo, hanno ragione, infatti per me il diritto di un bambino è quello di avere delle figure genitoriali dedicate, questo è il pensiero della sociologia, della psicologia e della pedagogia internazionale, poi sono i pediati italiani che anche quelli sono legati a schemi degli anni 50 e quindi va bene, ma la questione è che in Italia non si può partire dalla, si parte sempre dalla coda, la questione è di questo tipo, in Italia esiste una legge sulle adozioni che non funziona, una legge che è stata costruita dalla parte dei bambini, ma che ora è legusta, non tiene conto delle realtà che sono mutate, anche diciamo da una visione anche delle adozioni internazionali molto diversa da quando è stata messa in campo, io non sono per allargare le adozioni agli omosessuali, sono per rivedere completamente quella legge, proprio partendo dal fatto che per me è incredibile che un paese che ha una natalità sotto lo zero, quindi che non ha sovrappolarmento di bambini, continua a tenere migliaia di bambini nelle strutture, casa famiglia e altre cose, tra l'altro di solito minori che vanno dai 6-7 anni ai 14 anni, la faccia più problematica è perché sono bambini naturalmente che sono stati adottati, resi adottabili perché hanno subito questioni pesanti e che avrebbero un gran bisogno di una figura dedicata invece di fare discussioni assurdo come si sta facendo in Italia, per cui uno, grande riforma delle leggi sulle adozioni, due, riscrittura della legge 140, la legge 140 l'ha già devastata la Corte Costituzionale, cioè la Corte Costituzionale pezzo per pezzo ha distrutto proprio le parti ideologiche della legge che si occupa di la fecondazione assistita. Cosa aspetta la politica del Parlamento ad affrontare questo tema? Non si capisce, nessuno ne parla più. Intanto cosa succede? Succede una cosa molto semplice che accadeva anche sulla questione dell'aborto, che chi ha i soldi va all'estero, fa la fecondazione eterologa o va ad adottarsi i bambini, o se li va a fare diciamo, come fanno le coppie, e tutti gli altri che non hanno i soldi, non hanno così tanti soldi per poter, magari hanno i soldi per accudire il bambino, ma non per andare a fare i viaggi della speranza, eccetera. Oltre alla fuga dei cervelli, anche la fuga dei cuori. Oltre alla fuga dei cervelli, 500 mila persone in dieci anni che sono sfuggite da questo paese nel più tornate, questo è un paese che io lo dico sempre per scherzo, ma non avessi l'età che ho, avessi più o meno la mia età, ci penserei a rimanerci, perché? Perché egoisticamente, perché davvero non si ha la sensazione che, lasciamo stare la crisi economica, ma non si ha la sensazione di avere una speranza e non si ha la sensazione che la politica, anche se non ha la possibilità dal punto di vista economico di aiutarti, ma che la politica abbia comunque una visione che dice, io comunque voglio scommettere su di te per il futuro. E' questo che manca in questo paese. Aurelio, parlando appunto di genitorialità, perché è così importante la terminologia e perché madri e padri non dovrebbero temere di essere chiamati genitori di fronte alla legge? Tanto perché si chiamavano genitori anche nei moduli degli anni 30, diciamo, cioè tutta questa cosa di madre e padre, e anche qui è retorica confessionale, nella richiesta della carta di identità per i minori, tutti i genitori, genitore e genitore, cioè qui stiamo facendo polemiche inutili. Madre e padre, tra l'altro io me lo ricordo, c'era una grandissima attenzione, questo negli anni 60-70, dalla parte degli assessori sociali della DC, a non discriminare per esempio i bambini che poi venivano da famiglie di vedove o di separate, di gente che veniva abbandonata, eccetera, perché nella modulistica si aveva una grande attenzione anche a scuola, cioè queste cose qui non fanno parte dello scontro ideale, ma del buon senso, del buon senso. È nata una grande polemica. Sì, perché qua, a differenza, io non ho, come dire, nostalgia della DC, del PC, del tempo che fu, però c'era un elemento molto importante quei partiti lì, che era quello che erano popolari e al di là delle posizioni, diciamo, diverse su alcune questioni, ma sulla tutela della dignità della persona c'era un accordo strettissimo. Oggi questo non avviene più, cioè oggi, siccome i partiti sono o partiti padronali o partiti per frazioni, eccetera, a nessuno interessa la dignità rispetto dell'altro, per cui la politica non è più giocata sui valori, sulle idee, su quello che io penso e tu pensi e quindi ci avversiamo, ma sulle bande armate, più o meno di che cosa non si sa, e quindi dentro questa logica qui, tutto ciò che è rispetto almeno dei minimi valori, diciamo, di convivenza, viene tutto schiacciato. Quindi diciamo che non si tratta tanto di scardinare, come alcuni dicono, le fondamenta della società italiana, ma di prendere atto del reale, riuscendo a riconoscere certi diritti. Voi pensate a una donna che va a, come dire, a scrivere questo modulo che si vede scritta madre e padre, una ragazza che ha avuto magari figlio da sola o che ha avuto una rottura, eccetera, eccetera, o vedova, o allo stesso caso, diciamo, anche un uomo. O i genitori adottivi, che madre e padre, già un po' gli sta, diciamo, sì, è vero, però, o genitori, non so, zii e zii che hanno preso bambini che erano ossi, hanno l'ipotesi. Cioè bisogna avere un minimo di rispetto. E il genitore, non genitore uno e due, quella è la polemica assurda montata. Il genitore ha un grande valore sociale. Guardate che, io l'ho ricordato prima, da patria potestà, si è passati a potestà genitoriale. E lo ha fatto una legge dello Stato con l'accordo di tutti. Perché questo? Perché il genitore è la figura adulta che si occupa di un minore. Al di là che sia un legame di sangue o meno. Questa è la vera civiltà. Non quello che, siccome solo il madre e padre, cioè quelli che hanno generato, sono genitori. È una roba. Ma poi guardate che questa cosa qui, se uno la spiega alle persone per strada, la capiscono. Sì, certo. Perché è un adeguarsi più o meno a quello che è irreale. Che è irreale. A proposito, Aurelio, di associazioni e di trasversalità. In genere la difesa di certi diritti viene attribuita ad un'ottica di sinistra. Però esistono anche delle associazioni di carattere cattolico o di centrodestra. Al di là delle divergenze di prospettiva politica, esiste un terreno di azione che accomuna tutti? Allora, in teoria esiste questo benedetto documento che è stato approvato vari anni fa sulla piattaforma unitaria. Che hanno sottoscritto tutti e, ahimè, nessun punto è stato, diciamo, raggiunto dal punto di vista della risoluzione. Io contesto il fatto che ci siano omosessuali di destra, di sinistra, di centro, cattolici, eccetera, che non possano, che appunto non esista la possibilità di essere così, ma che gli unici veri sono i gay di sinistra. Guardate, intanto ci sono moltissime associazioni di destra nel mondo gay che operano anche abbastanza bene. Guardate l'esempio di Cameron. L'omosessualità non è di per sé un'identità che si accompagna a un'ideologia. Intanto l'omosessualità è una condizione umana. Poi uno sceglie di essere gay, cioè sceglie di fare della propria identità sessuale anche un valore sociale, cioè di riconoscere il fatto che esiste in quanto tale e che questo suo essere ha bisogno anche di un sostegno, di una parola pubblica, quindi della legge, eccetera, e questo vuol dire essere gay. Ma guardate, intanto le grandi riduzioni civili le ha fatte l'area liberale, non quella progressista, all'inizio. Poi è vero che tantissimi governi socialisti e socialdemocratici sono quelli che hanno approvato le leggi sul matrimonio, su un'unione civile, eccetera. Però per esempio la prima legge su un'unione civile è della Danimarca, era un partito conservatore, quindi anche qui bisogna stare un po' attenti, anche perché le categorie politiche mutano da paese a paese, da realtà a realtà. Io non legherei mai l'essere gay all'appartenenza politica, perché è un errore molto forte. Certo, votare la Lega è un po' una contraddizione, direi, o l'Udc. Bisognerebbe che ci vorrei discutere con questi gay. Però davvero uno deve negare il fatto che, per esempio, il centrodestra su molti temi è più liberal, per cui magari molti gay decidono, soprattutto al nord, che sui temi economici si sentono più vicini a Forza Italia. Così invece come la realtà sociale, l'attenzione sociale, eccetera, del centro-sud rispetto al centro-sinistra, fa sì che molti gay siano più a sinistra, addirittura anche persino antagonisti, eccetera. Però io non... Chiunque dà patenti di purezza rispetto a come si è gay, io lo avverso, perché secondo me, intanto noi dobbiamo parlare di omosessualità, al plurale, e anche rispetto ai gay bisogna parlare al plurale. Ognuno di noi è tante cose. Siamo individui poi, fondamentalmente. Ecco, l'individuo è tante... Io ve lo dico sempre, guardate, chi non ha un'identità non può riconoscere le identità altrui, ma soprattutto chi non si riconosce a se stesso molto identità, non può riconoscere l'identità altrui. Cioè, io sono gay, ma sono anche cattolico, sono anche tante altre cose, insomma, e quindi non devo... L'errore... L'unica cosa che combatto è il negare la propria identità sessuale. Perché si dice, ma sì, ma... Che io sia gay o che sia etero, che differenza fa? Fa differenza. Lo fa e ognuno di noi lo sa bene che lo fa, nella nostra azione quotidiana, nel nostro pensiero. Infatti, a proposito di crisi, le emergenze in questo momento sono tante, aumentano sempre di più i soggetti deboli da dover tutelare e difendere. Nel documento politico di Equality, cito, ci sono le donne, i disabili, i giovani e i migrati. Iniziamo dalle donne. Marginalità e violenza possono essere combattute con un'azione legislativa, educativa, in grado di incidere su certi modi di pensare della società italiana? Allora, io credo che in questo campo, come nel campo della violenza in generale, agire dal punto di vista penale è giusto. Ma se si agisce solo dal punto di vista penale, si fa un errore strategico. Il tema vero è che in Italia persiste il macismo. Persiste il fatto che c'è un'idea precisa di società che è costruita attorno al maschio eterosessuale che ha una certa visione. Beh, quella società lì è una società che è in crisi. È evidentissimo. La capacità delle donne negli anni 60, in poi, eccetera, di aver scardinato questa visione, oggi ha prodotto una certa crisi di ruolo. Questa crisi, per me, è positiva. Cioè, il fatto che non è positivo che emergano le violenze, gli assassini, eccetera, ma è positivo che le donne finalmente denunciano. È positivo il fatto che è chiaro che c'è una certa incapacità di gestire il conflitto, perché tu non sei più il capobranco, ma sei uno dei due generi che agisce nella società, allo stesso modo del genere femminile. Bisogna aiutare gli uomini. Cioè, benissimo le leggi contro l'avvivenza delle donne, anche adesso le norme che stanno per essere approvate sul femminicidio, eccetera, ma il primo obiettivo della politica deve essere comunque la formazione alla tutela nelle scuole, eccetera, eccetera, e l'aiuto agli uomini. Io, noi abbiamo già detto in vari tavoli, anche istituzionali, che due cose sono importanti. Il finanziamento dei centri di antiviolenza, questo no si fa solo retorica. Se non ci sono i centri di antiviolenza, le donne dove vanno a rifugiarsi, quando sono picchiate, eccetera. E il secondo è servizi che aiutino gli uomini. Cioè, bisogno, l'uomo, in quanto tale, quando non riesce a contenere la rabbia, quando non riesce a, come dire, a gestire il conflitto, per cui la sua immagine non è più quella di un tempo, no? Per cui la viralità viene messa in discussione rispetto al potere, eccetera, beh, va aiutato. Per cui, come succede anche in altri stati, eccetera, anche noi dobbiamo pensare a una rete di aiuto psicologico agli uomini, perché il problema non è delle donne, è degli uomini. E sempre un problema di educazione è quello nei confronti dei disabili, perché, per esempio, i disabili, nei loro confronti, esiste un sentimento diffuso, in generale, di comprensione, anche se le persone, magari alcune, si sentono a disagio di fronte alla disabilità. Eppure, in questo paese, nonostante un sentimento di altruismo e di comprensione, fatti concreti, soluzioni concrete, tardano ad arrivare. Allora, l'Italia ha la più bella legislazione mondiale sulla disabilità. Noi non lo sa, nessuno lo sa, però è così. Non sembra. Non sembra, ma è così. Abbiamo ricevuto le lodi dall'ONU, da tutte le organizzazioni internazionali. Peccato che non venga attuata, applicata. Cos'è che mancano? Mancano i soldi. Cioè, è molto semplice. Noi abbiamo una bellissima legge sulle barriere architettoniche, sull'abbattimento. Che noi siamo un paese ancora più di altri che ha un problema di barriere architettoniche. Cioè, non siamo un paese tutto piano, per esempio. E per cui, questo significa che le nostre costruzioni sono molto a scale, molto ripide. Non c'è una lira. Cioè, tutto ciò che si dice sulla disabilità è fuffa, perché appunto, belle le leggi, è tutto previsto, ma non ci sono i soldi. E questo, diciamo, è una questione che prima o poi è andrà affrontata. Ma, c'è un'altra questione che è vero, gli italiani hanno una certa sensibilità sulla disabilità, nel senso che anche quando non c'era la gestazione che c'è adesso, quando comunque di queste cose non se ne parava molto, i nostri non autosufficienti, quindi anche gli anziani, i disabili, erano, diciamo, trattati comunque abbastanza bene. Però, anche qui, si è passati, quest'ultima qui, è una cultura molto contadina e molto, diciamo, anche legata al sentimento religioso. Bisogna ammettere, la Chiesa Cattolica rispetto alla disabilità ha fatto moltissimo, moltissimo. Poi, con esagerazioni, appunto, trancimando solo questione dell'aborto, eccetera, ma ha fatto moltissimo. Però, questa visione, diciamo, caritatevole di sussidualità, eccetera, che è servita a farci arrivare fino ad oggi, non basta più. non basta più, Perché tutta una serie di disabilità, la scienza è andata avanti, eccetera, oggi possono benissimo essere autonome, benissimo gestirsi, anzi, e se fosse possibile, sarebbe anche una cosa economica, perché distruggerebbe tutta una serie di servizi che noi dobbiamo mettere in campo per forza, perché non ci sono le alternative. Pensiamo agli povedenti, ma pensiamo anche ai carrozzati, molti carrozzati non vanno a lavorare o perché, appunto, non ce ne sono che li accompagna, perché gli autobus a Roma, uno su dieci ha la pedana, capite, sono questioni, la mobilità è una cosa importantissima, l'autonomia della mobilità è importantissima. Bene leggi, nessuna applicata, cioè, tutta una serie di norme sono affidate alle regioni, ai comuni, voi pensate ai tagli che ci sono stati negli ultimi anni, quindi, diciamo, tutta la partita della non autosufficienza e disabilità, io spero che questa chiesa economica passi il più possibile, però, bisognerà affrontarla anche qui in visione di investimento per poi risparmiare, per far star meglio le persone, prima di tutto, ma per risparmiare, guardate, è provato che più si investe sulle barriere architettoniche, sull'agibilità e la mobilità della disabilità e meno costi ci sono nei servizi. Per quanto riguarda invece i giovani, la discriminazione più grande sembra essere l'assenza di una cultura del merito. Come si fa a valorizzare il talento in un paese in cui prevale la cultura invece del privilegio, delle clientele e delle caste? intanto il merito senza la pari opportunità è solo parole al vento, nel senso che se io non riesco a meritarmi quello che posso fare avendo avuto di partenza le stesse opportunità di altri vuol dire che chi è arrivato al merito senza le opportunità forse è un privilegiato, no? Allora, merito e pari opportunità, ma in questo paese non esiste proprio come dire come concetto base il fatto che i giovani a un certo punto vogliono la propria autonomia e quindi devono poter scegliere nella società cosa poter fare, studiare, lavorare, eccetera. C'è sempre questo cordone umbilicale da una parte costruito dalla visione politica di tutte le forze politiche e dall'altro anche dal familismo retorico a cui siamo collegati per cui il figlio è sempre visto come una propaggine del genitore o del genitore stato e un po' ci si adagia anche su questo. Io sono molto d'accordo con Chiara Saraceno quando dice in Italia lo stato è contro i giovani, ci sono leggi sbagliate tutto questo quello che è accaduto sul precariato è una vergogna allo stesso tempo non bisogna dire ai giovani state a casa vedrete no, ai giovani andate fate cercate cioè lo stimolo è compatibilmente naturalmente con le possibilità economiche però quello di intraprendere di crearsi una propria autonomia anche a costo diciamo di sacrifici perché questo matura l'autonomia poi crea la personalità dei giovani poi dopo di che questo stato è completamente contro i giovani perché non c'è da almeno 30 anni una sì ci sono stati il ministero della gioventù ma sono cose da retorica spicciola da sistema da regime insomma i corsi per i giovani qualche amministrazione per i giovani cioè sono stupidaggini investire sui giovani significa investire nel proprio futuro e questa visione non c'è più da molti anni anche perché tenete conto che i giovani diminuiscono la società sta invecchiando quindi c'è anche un'illusione da parte della società dirigente che non è solo politica ma anche imprenditoriale economica eccetera di onnipotenza cioè di essere sempre loro che rimarranno perché tanto alternative non ce ne sono questo è il male assoluto del nostro sistema perché le altre democrazie sia nei sistemi politici quindi nelle leggi elettorali nei sistemi dei partiti eccetera favoriscono sempre anche in modo lento a volte ma sempre un continuo ricambio e rigenerazione delle leve del comando in Italia questo è proprio il contrario tutto ciò che può impedire il cambiamento è favorito perché perché la nostra classe politica ma anche quella imprenditoriale condivide la stessa preoccupazione delle gerarchie cattoliche l'innamobilità io sono qui e devo rimanere qui perché se no chissà cosa succede se no senza di me chissà che succede eh non è così quindi diciamo che la cosa fondamentale è guardare al futuro e quindi speriamo al più presto prima di tutti ringraziamo per essere stato qui oggi con noi grazie a voi e speriamo di poterci vedere quindi presto per parlare di conquiste fatte invece che di problemi magari davanti a la mia impressione la mia impressione è che lo so io non sono ottimista la mia impressione è che ci vogliano ancora qualche anno perché non c'è quello che ho detto prima non c'è una vera volontà di rigenerazione della classe politica magari adesso avverrà una rigenerazione dal punto di vista anagrafico però purtroppo vedo che questi che vogliono conquistare il potere sia a destra che a sinistra hanno idee a volte più antiche dei loro nonni e questo è un problema speriamo speriamo di essere smentiti allora noi vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo al nostro indirizzo internet www.imodidiversi.com per rimanere aggiornati sui nostri progetti futuri e i nostri prossimi appuntamenti e ricordate che ciò che ci rende tutti uguali è l'essere tutti diversi grazie grazie grazie